per parlare della mascolinità oppressa e della malattia mentale insieme, cioè una frase iconica del tuo personaggio questa è una famiglia e manca il padre come te lo sei caricato sulle spalle questo ruolo? ma sai, come dire, siamo un po' tutti, questo è un racconto ovviamente della crisi di una persona ma può essere anche il racconto della crisi di una società, di un momento storico che stiamo vivendo e a ben vedere siamo un po' tutti schiacciati da questa esigenza di dover aderire a un qualche modello per gli uomini questo modello è un modello di durezza, di forza, di macismo, di conquista siamo inseriti in un mondo che fa della competizione l'unico canale di sopravvivenza o di affermazione del sé e per cui questo passa per una violenza, per un suprematismo che dall'uomo è richiesto in qualche modo a livello sociale questa è una persona che non si ritrova in questa immagine che anzi ha costruito una sua vita fatta di sensibilità, di delicatezza, di attenzione è circondato da donne, ha una compagna e due figlie splendide vive una vita serena, attenta, anche un po' indisparte se non che appunto questo sistema di certezze viene messo in discussione e quindi si riaprono queste ferite e quindi entra in crisi questo modello e per cui si riaffacciano questi dubbi forse era richiesto da me un altro modello di essere umano forse la mia famiglia cerca qualcos'altro forse i miei amici cercano qualcos'altro forse io non sono quello che loro si aspettano da me ecco queste domande sono qualcosa che in varie forme stiamo attraversando tutti in questa epoca storica perché c'è un grosso scollamento tra quello che siamo e quello che invece vogliamo rappresentare di noi e questo può come dire scivolare se non lo fa sempre in una patologia in uno smarrimento in una grossa forma di sentire che non stiamo facendo una vita che ci appartiene e spesso tanta violenza quotidiana nasce da questo tipo di conflittualità interna soprattutto la nostra generazione come dici tu è un po' il modello è uscire da un canone in cui la società vuole a 30 a 40 devi mettere su famiglia devi avere questo tipo di vita però poi dopo uno si sente oppresso il genere è il mostro sì esattamente è che quando aderiamo a qualcosa che non sentiamo sicuramente non ci fa bene quando ci forziamo appunto di essere qualcos'altro perché è più funzionale nei nostri rapporti sicuramente non porta mai a qualcosa di buono è come se carichiamo una bomba a orologeria che prima o poi esploderà per cui è un come dire nascondere anche questo film parla di una persona che ha messo in un ripostiglio in una sottoscala come dire ha cercato di mettere sotto al tappeto delle cose e costruire delle certezze su questa risoluzione e poi le cose invece da sotto ritornano e quindi riaprono tutte le certezze è una storia di crisi ma anche di crescita come nell'etimo della parola crisi e per cui visto che abbiamo vissuto un momento di pandemia di profonda crisi è un po' anche secondo me un simbolo di questo momento che stiamo attraversando cioè di come possiamo risolverci e risolverlo cercando il faro della sincerità che sicuramente è il canale di maggiore soddisfazione del miglior modo di stare al mondo io credo che il tema centrale tutti gli elementi che hai messo dentro che sono tutti importanti il tema della masconità sia cruciale in quanto volevamo raccontare un uomo che smarcasse l'ideologia del maschio alfa di un uomo che è capace di commuoversi di fronte alla bellezza della propria famiglia alla delicatezza delle proprie figlie all'amore della propria compagna e volevamo indagare anche il contrario ovvero cosa succede quando devi rimettere in discussione tutti questi pezzi e questo per noi è il tema primario di America Latina ed è anche il motivo per il quale siamo dire questo bellissimo, dolcissimo cartellone no, trovo meravigliosa la definizione di una famiglia a cui manco un padre gli assumo perfettamente il film sono felice di questa cosa poi siamo più o meno coetanei quanto vi è traumatizzato da bambini vedere film horror ambientati nello scantinato perché lo scantinato nel vostro film raccoglie un po' la paura che abbiamo dentro in realtà quella tavica che non toglie che piano piano esce fuori senza fare spoiler però c'è questo crescendo che lo vedi in maniera effettiva quanto ci avete messo di questo aspetto del vostro... cinematografiamente molto poco in realtà sulla letteratura invece c'è tanto un'ispirazione per me successiva all'effettiva realizzazione del film è rimescolare un po' a Sartre alla nausea soprattutto e quello è un riferimento lo è anche lo straniero di Camus in questo caso in cui chiaramente le cantine il sotto era uno stare emotivo un risiedere in una situazione umana molto chiara e più che malattia mentale io direi debolezza mentale che è una cosa che io possiedo in primis e che frequento mi fa se lo anche ed è interessante perché in realtà si tratta sempre di non accontentarsi mai di una dichiarazione di uno statement le persone sono tante cose è una bottiglia di vetro che casca e forma tanti pezzettini e ridurla a una definizione di scherzo limitativo e noi speriamo che il nostro cinema non porti mai a sentenze di questo tipo no non porti mai a sentenze di questo tipo